Siamo qui perché la nostra associazione crede fortemente nel ruolo da protagonista delle donne nella transizione digitale. Le donne spesso vedono la tecnologia, l'innovazione come fattori diciamo distanti, mentre noi siamo convinti che il contributo delle donne nella creazione proprio della definizione del futuro sia fondamentale. Quindi abbiamo ospitato questo evento con molto piacere qui all'Innovation Village e speriamo in questa importante collaborazione.